A pochi giorni dall'apertura dell'anno scolastico non si fermano le proteste dei docenti siciliani e del personale ATA. Ieri pomeriggio alcuni precari appartenenti a cooperative sociali hanno occupato l'atrio di Palazzo Comitini, sede alla provincia di Palermo. A surriscaldare gli animi, la notizia è che la provincia non avrebbe i fondi per assistere gli studenti disabili. Il rischio è che a pochi giorni alla riapertura delle scuole non ci sia personale che possa dare assistenza agli studenti disabili, non garantendogli dunque il diritto allo studio. La protesta è rientrata quando i lavoratori hanno ottenuto un incontro con il commissario e mentre Palazzo Comitini era ostaggio dei precari, a Palazzo delle Aquile si svolgeva l'assemblea regionale degli operatori siciliani. Gli insegnanti chiedono una riforma del sistema scolastico che dia risposte certe ai tanti problemi e alle tante contraddizioni della scuola siciliana, una scuola dove è difficilissimo riempire tanti posti vacanti, fatta di graduatorie infinite e di stipendi bloccati, di edifici scolastici in degrado e di precari, una scuola dove non sempre lo studio è un diritto garantito. Ovviamente diciamo vorremmo parlare di rinnovo del contratto anche per sfatare certi miti, cioè parlare nel lavoro docente di tutto il tempo scuola, di tutto il lavoro che ne svolgiamo nella nostra scuola, contrattualizzarlo e farlo uscire dalla nebbia perché noi non siamo quelli delle 18 ore. Noi abbiamo attività obbligatorie che svolgiamo a scuola e le vogliamo ricomprese nel contratto. Per i paesi in cui ancora è strategica la scuola si fa anche economia con la scuola. In Italia dove purtroppo siamo bigotti da questo punto di vista pensiamo di fare economia con le casse integrazioni, le disoccupazioni e tenendo ancora professionisti come noi legati al soldo.